Come si costruisce un versaglio? Per prima cosa si infila le maglie nella corda fiombata e si infila sempre fino a mandarle fino in fondo e togliere in modo che tutti i nodi sono separati una dall'altra. Tutte le maglie sono separate una dall'altra. Fa questo lavoro qua, fa sempre, sempre, con pazienza, che ci vuole pazienza. Piano piano, dovere fretta, tanto fretta non ne abbiamo e ci facciamo il tempo. Io almeno ne ho fretta. Poi se qualcuno ha fretta deve fare piena letta. In questo modo le maglie sono stirate, bisogna stirare le maglie. Questo è il primo procedimento. Grazie. Grazie. Grazie.